Allora eccoci rientrati nei nostri studi, ve li presento subito, abbiamo Danilo Lanciotti e Matteo Balestrini di Admo. Ecco Admo è qui oggi a vera mattina per lanciare un messaggio importante poiché ci sono delle malattie dalle quali per guarire c'è bisogno di un trapianto, senza un trapianto purtroppo la strada si fa veramente dura per molte persone. E quindi vogliamo appunto sensibilizzarvi su questo tema così importante partendo anche da esperienze di vita difficili ma proponendovi anche delle occasioni per conoscere meglio questa realtà, entrare a farne parte e informarvi insomma maggiormente. Allora io vorrei partire proprio da Danilo, tu sei un donatore, sei stato un donatore? Sì, io fortunatamente ho avuto l'occasione di donare 15 anni fa, quest'anno è il quindicesimo anno che ho donato. Come si è concretizzata questa esperienza? Beh, diciamo ho ricevuto la chiamata del centro di Ancona che c'è la possibilità di donare, abbiamo approfondito le analisi e dopo di questo abbiamo deciso di fare questa donazione nel mese di giugno. Poi per un problema che c'è stato dal ricevente e abbiamo spostato il tutto al 30-31 luglio del 2007. Io sono stato uno dei primi che ha donato per via periferica nelle marche e ho fatto questa scelta, lo dico sempre, anche perché lo volevo vivere tutto in diretta, la donazione. E quindi ecco, è iniziata quattro giorni prima con la somministrazione dei fattori di crescita e poi nel quarto e quinto giorno c'è stata la donazione in Ancona. Ma come è partita questa chiamata interiore, intendo? Eh, è stata, diciamo, una bella emozione quando senti la telefonata che sei l'unico che può salvare una vita. Quindi da quel momento incominci a pensare come starai ricevendo e cosa farà, tutte queste cose qui. Matteo, come ti è entrato a far parte di questa grande famiglia? Allora, io sono entrato a far parte della famiglia di Admo perché Danilo e il Vezio ci hanno contattato perché volevano riattivare la sede di Macerata. Io ero già volontario, cioè, ero già iscritto ad Avis e ero già iscritto ad Admo. La solidarietà è quello che mi ha spinto appunto ad avvicinarmi a questo mondo. Poi, guardandomi intorno, mi sono accorto che c'erano tante retigenze e quindi le persone erano un po' restie a mettersi a disposizione. Ho accettato un po' la sfida e quindi, ecco, ora sono qui ma, diciamo, non sono ancora stato chiamato e sono uno dei tanti che sta all'interno del registro, tanti per modo di dire, che sta all'interno. In realtà scopriremo nel corso di questo spazio che i numeri poi non sono così elevati. C'è bisogno dello sforzo davvero di tutti, no? Perché, come dicevo in apertura, ci sono malattie, per esempio determinati tipi di leucemia, che necessitano proprio di un trapianto, proprio per dare la possibilità di vivere, di continuare a vivere a tanti pazienti. I pazienti che, guardate bene, insomma, parliamo anche di persone molto, molto, molto giovani. Quindi, insomma, stiamo qui a raccontare la vita di quanti si sentono così appesi a un filo, no? E quindi, più che mai è importante sensibilizzare su questo tema l'opinione pubblica. Dovremmo avere in collegamento anche Lorenzo Rossini, che è il presidente di Admomarche. Eccolo qui. Buongiorno, Lorenzo. Buongiorno a tutti voi. Dicevo, Lorenzo, l'importanza di diffondere una certa mentalità, no? Ma soprattutto tra i giovani, io direi, perché poi quando parliamo di midollo osseo, no? Ci sono, lo diremo tra poco, anche delle caratteristiche e quindi dei requisiti. Sì, assolutamente. Noi parliamo soprattutto, naturalmente, al pubblico giovane, ragazzi tra i 18 e 35 anni, 36 non compiuti. Perché, mi sentite bene? Sì, ci vediamo. Ecco. Per far raccontare loro un messaggio, no? Si dice che la vita è fatta di incontri. Noi cerchiamo di favorire questi incontri che possono poi veramente salvare delle vite. Parliamo a ragazzi che molte volte non sanno che da un piccolo gesto come la donazione di sangue può scaturire una vita, può essere salvata una vita. Noi, naturalmente, parliamo di ragazzi che andiamo nelle scuole, andiamo nelle piazze. Adesso stiamo qui per, insomma, Danilo e Matteo sono in studio, proprio per parlare della settimana di Becid Now, degli eventi che sono imminenti e di sensibilizzazione, di tipizzazione, quindi di reclutamento di nuovi donatori di vita, insomma. Un po' daremo tutti i riferimenti. Consentitemi però di dare il benvenuto anche ad una nostra amica. Io l'ho sentita questa mattina al telefono. Lei è Anastasia. Vediamo se è collegata con noi. Buongiorno. Ciao Anastasia, buongiorno. Buongiorno. Salve, salve. Mi sentite? Ti sentiamo e ti vediamo bene. Intanto io ti ringrazio proprio a titolo personale di questa disponibilità. Mi scuso un po' per le condizioni. No, stai benissimo. Ritengo, tra l'altro, che raccontare un proprio vissuto sia forse la forma migliore, no? Per convincere chi ci ascolta dell'importanza di un gesto come quello di donare e quindi scriversi al registro. Qual è la tua storia? Tu sei molto giovane, sei una giovane mamma. Sì, mi sono ammalata l'anno scorso, a pochi mesi dal ventesimo compleanno, mio figlio aveva solo nove mesi e da lì è iniziato tutto un percorso. Ho fatto tre cicli di chemioterapia, uno di chemioterapia e due di consolidamento, ho fatto un trapianto autologo, quindi un trapianto dalle mie cellule staminali ripulite e rinfuse nel corpo. Purtroppo, dopo sei mesi, mi sono rimalata di nuovo, sempre della stessa malattia e purtroppo ora necessito di un trapianto di midollo. E quindi, ecco, è un po' difficile la situazione. Perché oggi però sei qui e hai deciso con forza di raccontarti? Perché noto che i ragazzi della mia età in realtà si ammalano molto ultimamente. Ci sono moltissimi ragazzi nelle mie condizioni, anche più piccoli, che purtroppo hanno la disgrazia di ammalarsi e poi dover convivere tutta la loro vita con la paura costante. Io vorrei sensibilizzare questo discorso non solo per me stessa, ma per tantissime altre persone. Perché donare non è una cosa leggera, è regalare letteralmente una speranza in più a qualcuno di poter avere una vita un pochino più facile, insomma. Non so spiegarmi magari molto bene, purtroppo di donatori non ce ne sono molti e le ricerche spesso e volentieri vanno molto per le lunghe. Se ad esempio magari io me la sarei potuta cavare nell'arco di due mesi, se non riesco a trovare il donatore dovrò continuare cicli di chemioterapia fino all'arrivo del donatore. Senti, io veramente ritengo importante ma proprio centrata la tua testimonianza, anche data la tua età, no? Tu hai 21 anni e quindi forse il tuo messaggio può arrivare forte proprio ai giovani, perché... Sì, lo spero. Chi è nel pieno della vita pensa sempre che non gli possa accadere nulla e quindi bisogna cambiare mentalità e mettersi a disposizione della società, no? Allora, quando mi sono ammalata io non sapevo neanche che cos'era la leucemia, quindi non avevo presupposizione di poter avere un tumore fondamentalmente, perché è un tumore del sangue e non mi sarei mai aspettata che a 21 anni, da 20 anni, avrei potuto avere una cosa del genere. Io ritengo sì molto importante che i giovani della nostra età, chi in salute, chi se lo può permettere, inizia a donare e a fare, diciamo, questo gesto molto... pesante, perché comunque se anche donare non è una cosa semplice, io lo so, lo capisco, è difficile, però regalare una speranza a qualcuno di esserci un domani penso che sia più importante della paura di diventare un donatore, esatto, perché non è una cosa assolutamente brutta, è una cosa bellissima essere un donatore, secondo me, perché se io adesso nelle mie condizioni avessi saputo, cioè no, nelle mie condizioni, se io fossi una persona sana, probabilmente avrei iniziato un percorso di donazione, perché ne ho viste, ne ho sentite e non è bello vivere questa situazione. Posso capire che la paura sia tanta, che le difficoltà possono essere tante, però bisogna farlo, bisogna cercare di spronare i ragazzi, sì, della mia età, perché purtroppo ormai si sono persi troppi valori e magari non si pensano più a tante cose, non si pensa più al prossimo. Non avrei potuto trovare parole migliori e tra l'altro vorrei sottolineare di come fortunatamente però ci sia sempre un'onda positiva, di solidarietà, vero? Perché anche nei confronti di questa giovane famiglia c'è stata. Sì, Anastasia, mi permetto di segnalare anche la vicinanza da parte dei colleghi di tuo marito, del tuo compagno. Grazie. Che c'è arrivata voce, che hanno donato alcune ore per avvicinarsi, sono dei colleghi dell'azienda Clementoni che hanno scelto di essere vicini. Vorrei tornare, sì, Anastasia. Loro, noi abbiamo cercato soluzioni per poter in qualche modo magari aggirare questa cosa ed evitarla, perché l'anno scorso ci siamo riusciti. Quest'anno purtroppo le difficoltà erano di più, perché io ho deciso di prendere un percorso differente, di curarmi in un'altra regione e quindi si è un po' aggravata tutta la situazione. Sì, io faccio anche un ringraziamento molto grande alla ditta Clementoni, a tutti i loro dipendenti che si sono presi, diciamo, carico di dare a mio marito queste ore, sì. E li ringrazio veramente, veramente tanto. Anastasia, non ti possiamo abbracciare, ma sappi che da qui veramente c'è grande emozione per quello che stai dicendo. Scusate. No, assolutamente. E torno da Lorenzo, perché lo ringrazio, perché è stato lui in realtà, insomma, avevi messo in contatto con te, quindi lo ringrazio perché credo che sia questo un momento sì toccante, però cruciale, perché ci staranno ascoltando persone che sono in difficoltà, ma anche persone che in questo momento vivono una fase della vita normalissima e quindi è importante, Lorenzo, fermarsi a riflettere, a riflettere su come poter veramente cambiare le sorti di una persona che si trova in un momento così difficile. I numeri, i numeri devono crescere. Sì, assolutamente. Difficile trovare le parole dopo l'intervento di Anastasia, che io personalmente non conoscevo. Voglio dare merito a Matteo e Leonora, la sua compagna, che in realtà sono stati loro a proporre il collegamento con Anastasia da Verona. L'Anastasia ha avuto un coraggio enorme a presentarsi questa mattina e lanciare questo appello che ha toccato il cuore di tutti e a mettere il volto di tutti coloro che stanno aspettando pazientemente un trapianto di bilollo. Noi questa lotta incessante che facciamo per cercare di far comprendere ai giovani che dare vera e autentico senso alla loro vita è proprio quello di donare, donarsi. Il presidente del Consiglio di Sanità, del Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha detto che chi non si dona è come un seme che non germoglia. e oggi vedere Anastasia in questo letto d'ospedale, che come per me dieci anni fa, perché io come ben sai Stefania, vengo da un percorso analogo, e mi sento di dire ad Anastasia di abbracciarla, anche se virtualmente, per dirle che andrà benissimo, che troveremo un donatore, che troveremo la cura. Quando diciamo nelle piazze, nelle scuole, ai ragazzi che la cura sono loro, non sanno molte volte di poter veramente loro stessi essere la cura di mali come quelli che colpiscono Anastasia, come l'hanno colpito me. Io sono qui, Anastasia, a dirti che a nome di tutta Admo, Admo Marche, ma di tutti i volontari che hanno a cuore questa situazione, che io come tanti altri ce l'abbiamo fatta, è una rinascita, tu sei già sposata, io mi sono sposato dopo il midollo, e adesso ho un figlio. No, ancora non mi sono sposata. Ah, scusami, ecco, però hai avuto una bambina, ecco, ecco, e quindi hai un matrimonio davanti, la vita ti aspetta, e noi siamo qui appunto per lanciare questo appello e reclutare quanti più giovani possibili, perché come diceva Anastasia, molti non sanno nemmeno che c'è dell'esistenza di queste malattie ematologiche e soprattutto della possibilità di dare senso alla loro vita salvando una vita, che non è soltanto quella del paziente in attesa di trapianto di midollo osseo, ma è la vita di coloro che stanno attorno alla famiglia che sta vicino a questi pazienti, ad Anastasia in questo caso, e la vita che abbracceranno, che accoglieranno ancora, perché è stato nel mio caso che ho avuto la grazia di avere un figlio, così Anastasia avrà sicuramente la possibilità di contagiare con la vita altre persone, come ha fatto con noi oggi. Quindi ha due vite. Io mi permetto di dire, Anastasia, che apprezzo molto il tuo coraggio, però devi essere forte ancora di più, che hai questo splendido bimbo, hai tante persone che ti vogliono bene, il tuo compagno, una famiglia vicino, e hai tanto sostegno. Io sono positiva. E hai tanto sostegno. Io sono molto positiva. Come hai visto, Admo è in prima linea, quindi Lorenzo, ne hai la testimonianza vivente di quello che è stato il percorso, che poi si è concluso in maniera positiva. Lo abbiamo raccontato qui a Veramattina, quindi io non aspetto altro che raccontare l'esito di quello che è il tuo percorso. Abbiamo detto, volevo tornare a Danilo e Matteo, l'importanza di divulgare dei messaggi positivi e anche di far conoscere meglio Admo. E allora, c'è stato un evento rinviato perché causa alluvione, quindi posticipato. Quando si terrà? Allora, l'evento che è stato rinviato è quello di Monte Falcone Appennino e noi l'abbiamo rinviato per i lutti che ci sono stati con l'alluvione al primo ottobre a Servigliano, al palazzetto di Servigliano, che è all'interno del Parco della Pace. Questo qui, per incontrare i giovani, abbiamo deciso di fare un torneo di calcio balilla umano. Perché? Incoraggiare i giovani a venire in maniera ludica, però informarli, ecco, Anastasia è stata bravissima a lanciare l'appello che un giovane può salvare una vita e non ti toglie nulla. Non ti toglie nulla, anzi, diventi una persona speciale. Esatto. Perché il fatto di poter donare si diventa anche fratelli di sangue, gemelli di sangue. Esatto. Quindi, ecco, il primo ottobre invitiamo ai ragazzi a venire a Servigliano se vogliono venire a fare il torneo o vengono, ma oppure possono venire solamente per iscriversi, perché in quella giornata ci sarà anche il personale medico ed infermieri dove si potrà fare la tipizzazione. Più ne siamo, ecco, Anastasia è l'esempio, una giovane mamma, diamo la possibilità anche di vedere crescere il bimbo, quindi, come è successo a Lorenzo, di poter stare in famiglia e di poter avere tutto il meglio che può. Quindi, ecco, ai giovani dai 18 ai 35 anni l'appello è venite, venite, venite. Se non venite il primo potete venire il 25 a Macerata, dove Matteo spiegherà meglio. Ecco, Matteo, che cosa accade invece a Macerata? Vado io. Allora, domenica 25, quindi tra due giorni. Siete belli attivi, insomma. Siamo, sì, siamo cari, perché questa abbiamo, diciamo, tralasciato, è la settimana nazionale sulla donazione di minollo osseo, quindi è Match It Now, quindi la ricerca del match, del donatore compatibile. E a Macerata, per il quarto anno, torna Match It Now. La formula che abbiamo scelto è di una giornata intera dedicata allo sport, quindi ci sarà al mattino una corsa non competitiva, che è stata sempre molto partecipata. Consideriamo che il primo anno ci sono state circa 700 persone, poi alla seconda edizione, quindi il post-covid, l'anno scorso ce ne sono state all'incirca 300. Speriamo quest'anno di fare il pienone. Vediamo delle corse precedenti. Esatto, qualche camminatore, perché appunto non è una corsa competitiva, ma è una passeggiata, è un momento per divulgare il messaggio. Certo, certo. E sarà possibile appunto per tutto il giorno, quindi dalle 9 circa fino a mezzogiorno e poi dalle 16 alle 20, iscriversi al registro. Verranno tre medici e infermieri dalla regione che si metteranno a disposizione appunto per iscriversi al registro. Cosa vuol dire? Vuol dire fare un semplice prelievo di sangue. Per molti hanno paura del lago e dei terrori a iscriversi, ma in realtà fanno un semplicissimo prelievo, un campione che darà la possibilità a Anastasia, Marco, Antonio, Claudio, chiunque sta cercando un donatore compatibile di trovare quel match. Quindi ovviamente questa è un'occasione, ma non dimentichiamo che tutti i giorni i centri trasfusionali della regione sono a disposizione per fare appunto il prelievo necessario. Basta iscriversi online con una pre-iscrizione e poi regarsi presso il centro prelievi più vicino e fare la tipizzazione. Domenica a Macerata appunto la giornata sarà mattino, corsa non competitiva, pomeriggio ci sono ben 18 società sportive maceratesi che scenderanno in piazza per portare il messaggio di Admo. È un numero importante se pensiamo a una realtà come Macerata. Tutti riuniti lì, tutti pronti a dare spettacolo ma soprattutto a dare spettacolo per Admo perché insomma mettere d'accordo magari chi durante tutto l'anno è in competizione immaginiamo una palestra che è in competizione con un'altra palestra saranno presenti in piazza per l'associazione. Ovviamente ci sarà anche Avis che è il nostro sponsor e tutti quelli che ci aiutano come Banca Macerata Contram eccetera. Allora noi siamo in chiusura quindi avete capito prendete nota e partecipate in tanti soprattutto informatevi speriamo che il messaggio di Anastasia sia arrivato forte e chiaro che la sua testimonianza possa essere di esempio per tutti per tutti noi. Io ti ringrazio ancora Anastasia veramente a titolo personale perché non era proprio previsto questo video collegamento quindi secondo me hai fatto la cosa giusta non per io ringrazio voi guarda non per spettacolarizzare una vicenda così difficile quanto il contrario per dar spazio a quello che è lo spettacolo della vita che deve andare avanti può andare avanti soltanto se diamo una strigliata a tutti cerchiamo di far capire quanto è importante mettersi a disposizione degli altri e dare una mano va bene quindi io ti abbraccio ti mando un bacio e vado a salutare anche Lorenzo grazie Lorenzo grazie mille grazie a voi grazie Anastasia voglio invitarlo naturalmente appena possibile nelle nostre piazze perché sai la nostra prima testimonial e quindi ti aspettiamo a braccio aperto forza molto volentieri e ti aspettiamo molto molto volentieri grazie con Atmo non finisce qui perché insomma torneremo a parlare di donazione quindi grazie ancora a Lorenzo Rossini e grazie a Danilo Lanciotti e Matteo Balestrini per essere stati qui nei nostri studi grazie a voi grazie mille grazie noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e vi aspettiamo subito dopo qui a Vera Mattina